Sì, Cleto è uno dei borghi più belli, più saordinari della Calabria. Oggi siamo qui a parlare di futuro, parlare di un futuro possibile per questo borgo, per questa comunità e soprattutto c'è una possibilità che è quella di incrociare il percorso di questa comunità dal basso con interessi che si rivolgono verso questa località da parte di investitori stranieri. Credo che sia un'operazione importante che si possa fare, certo serve la partecipazione di tutti e potrebbe essere anche un'operazione che fa un po' da paradigma per altre operazioni che si possono fare in Calabria perché la Calabria è piena di borghi belli e in qualche modo spopolati come Cleto.